Regione Umbria a Foligno, la Quintana ormai è iniziata, come sta andando questa cena grande? La cena benissimo, come sempre, di grandissima qualità e anche in questa atmosfera straordinaria di Palazzo Trinci e anche il tempo sembra assistere questa bella serata e poi insomma una cena importante per i 400 anni della Quintana.